Eccoci qua, bentornati e do il benvenuto al senatore Matteo Renzi, leader d'Italia Viva. Buonasera, eccolo qua. Buonasera, come sta? Come va? Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Eccoci qua. Di solito la domenica lei va a correre. Di solito vado a vedere le partite, ma non è un gran periodo per la Fiorentina. Speriamo nella Conference League. Facciamo i complimenti all'Inter che ha vinto lo Scudetto, però speriamo prima o poi questa gioia tocchi anche a noi. Complimenti poi sentitissimi, tra l'altro. No, insomma, io ormai ho 50 anni e non mi ho vinto nulla. Una Coppa Italia, parliamo di politica se è messo in medio. Si candida Renzi? Ma io sono rimasto molto colpito del debito, perché qui si candidano tutti quelli che non vanno in Europa. Uno da casa dice, Renzi ha esagerato con le bevute sotto il ponte. No, uno si candida alle europee e dice, votatemi perché vuoi andare in Europa? No, no, non ci vado. La Meloni, la Schlein, Tajani, tutti quelli che stanno dicendo, votatemi, mi candido, però dicono, ragazzi, se votate me, io in Europa non ci vado. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto noi con una lista Stati Uniti d'Europa è chi si candida per andare in Europa, se viene eletto, va in Europa. In tutta Europa è così. Quindi noi decideremo, martedì annunceremo le nostre candidature. Però la cosa incredibile è, martedì 30, ma è possibile che noi italiani ci facciamo riconoscere, si prenda in giro la gente? Cioè, metterci la faccia per non essere eletti e mandare qualcun altro al posto nostro, a me sembra una roba, boh, non c'è nessun altro paese che lo fa. Un po' di serietà. Se vi candidate, restate in Europa. Se non volete andare in Europa, non candidate. Non considerate i cittadini dei fessi. Si può dire fessi? Però sarebbe meglio non dire. Entriamo subito nel vivo con la notizia della giornata, appunto la candidatura della Meloni. Vediamo una breve clip e poi continuiamo a parlarne, perché non è un argomento irrilevante questo qui sulle candidature sull'Europa. Prego. Se gli italiani pensano che stia facendo bene, chiedo loro di andare a votare, chiedo loro di scegliere Fratelli d'Italia e chiedo loro di scrivere il mio nome. Ma il mio nome di battesimo. La cosa che personalmente mi rende più fiera di questi giorni è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continuano a chiamarmi semplicemente Giorgia. Non Presidente, non Meloni, Giorgia. E guardate, per me è una cosa estremamente importante, estremamente preziosa. Io sono stata derisa per anni e anni, per le mie radici popolari, no? Mi hanno chiamato pesciarola, fruttivendola, borgatara, perché loro sono colpi, si vede da questa capacità di argomentare nel profondo, la cultura. Quello che non hanno mai capito è che io sono stata sempre, sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo. Sarò sempre estremamente fiera di questo. Che dice, Renzi? Che Giorgia Meloni è bravissima a fare i discorsi, ma nella sostanza, se uno scrive Giorgia o scrive Meloni, non ci va né la Giorgia né la Meloni. Perché se scrive Giorgia o Meloni, la Presidente del Consiglio manda qualcun altro. Allora voi direte, ma questo è un tema da addetti ai lavori. No, ne va della nostra credibilità. Oggi c'è bisogno di cambiarla, st'Europa. Ma la Meloni non interessa contare in Europa, interessa contarsi in Italia. Cioè, lei vi dice, prendo un sacco di voti e il giorno dopo a Salvini gli faccio un bel discorsetto. Questo è quello che lei vuole fare. Lei vuole fare i conti attraverso le europee per poi regolare i suoi rapporti con Salvini. È comprensibile, perché almeno smettono di litigare. Ma questo modo di fare si gioca sulla pelle degli italiani. Perché chi mandi in Europa deve essere quello che decide sui salari, sul MES sanitario, che sembra una parolaccia, ma sono 38 miliardi di euro. Vuol dire liste d'attesa per una biopsia. Vuol dire liste d'attesa per una visita. Vuol dire andare a evitare che chiudano le aziende in Italia per aprirle in Cina. Ci sono temi proprio che incidono sulla vita dell'Italia. E allora, quando Salvini dice meno Europa, lui viene da una cultura che dice meno Europa significa più Padania, no? Viene da quella cultura lì. Ma in realtà, al giorno d'oggi, meno Europa significa più Cina. Meno Europa significa più Sud-Est Asiatico. Ecco perché io dico, ragazzi, l'Europa o si mette insieme e fa massa critica, diciamo confrontandosi, non dico contro il resto del mondo, oppure finiremo schiacciati tutti, Padani, Toscani, Fiorentini, Lucchesi. Ecco perché noi diciamo Stati Uniti d'Europa. È una differenza profonda, però mi sembra che anche la Meloni sia un pochino scappando dalle proprie responsabilità. Cioè lei è in campagna elettorale permanente, ma le famiglie, lo dico a chi ha un mutuo, state meglio o peggio di due anni fa? Perché è una domanda secca. Per capire se la Meloni è brava, bisogna dire, rispetto a due anni fa, a far la spesa, a fare il pieno, a vivere nella quotidianità, state meglio o peggio? Questa è la domanda. Se state meglio, e viva la Meloni. Se state peggio, la Meloni sta fallendo. Questo è il punto fondamentale. Giudicatela così, Giorgia. Lei, quando tutti attaccavano Berlusconi, ancora vivente, attivo in politica, disse io non faccio un programma politico che si chiama Contro Berlusconi. Io, Berlusconi, è un avversario politico, ma non lo attacco come... non ne faccio un mostro. Lei non ritiene che tutti questi attacchi sul fascismo, sul non fascismo, sul... si possano in qualche modo provocare l'effetto contrario per chi li fa? Sì, però dividiamo. Berlusconi, rispetto a questi di qua, era un fuoriclasse. Io non ho mai votato Berlusconi, Berlusconi non ha mai votato me, ma Berlusconi, rispetto alla classe dirigente di oggi della destra, era un altro campionato, un'altra categoria. Era dieci volte più bravo di Lameloni e di Salvini. D'accordo. Questo è un punto che va detto. Dopodiché, sono d'accordo con lei. A forza di gridare al fascismo ogni piesso spinto, ogni volta che uno si muove il libero è democrazia, il liberale, e qui c'è la svolta autoritaria, e Lameloni è fascista, paradossalmente aiutano Lameloni questi attacchi. Uno, perché diciamo le cose come stanno, questo paese non è a rischio fascismo, perché se no veramente si racconta le cose che non sono giuste. Non era un rischio autoritario quando c'era la sinistra del governo, non è un rischio autoritario quando c'era la destra del governo. Hanno vinto le elezioni, bene, governino. Anzi, bisognerebbe andare a incalzarli sulle cose da fare. Cioè, io se fossi la Schlein o Conte, anziché gridare svolta fascista ogni tre volte al giorno, che sembra come la cura medica, tre volte al giorno dire che c'è il fascismo, bisognerebbe dire scusami, ma tu avevi detto che avresti risollevato le condizioni del ceto medio, perché non ce l'hai fatta? Avresti detto abbasso le tasse, perché hai aumentato le tasse sui bambini? o farne l'intervento al Senato, no? Perché, perché faccio un esempio, che ne so, sull'immigrazione avevi detto che avresti chiuso i porti e in realtà ci sono nel 2023 più sbarchi del 2015. Andare sul... Ma certo, se vuoi mettere in crisi la Meloni, devi dirle, cara Giorgia, o cara Meloni, o cara Presidente, ma a te, di risultati concreti, che hai portato? Se invece le dicono sei fascista, e lei dice, ragazzi, io ho vinto le elezioni e li frega tutti. Quindi, paradossalmente, la Schlein è la migliore amica della Meloni. Secondo me si vogliono bene. Quelle due ragazze si vogliono bene. Si vogliono bene. Che è un fatto positivo. D'accordo. Viva l'amore. Va bene. Senta, o il generale Vannacci ha trovato un altro buono, eh? No, perché è un fenomeno, cioè... Oh, ma lui... Nella Lega non è che l'hanno accolto tutti bene, insomma. E alla Lega non sono contenti perché Vannacci sta trasformando la Lega. Insomma, Bossi era l'uomo del popolo, della secessione, delle aziende. Vannacci ha questo atteggiamento dove anziché un generale sembra un supermodello. Fa le foto sul mare e tutte le volte in TV. E io, per carità di Dio, da questo punto di vista credo che ognuno può fare quello che vuole. Però, da zio di una bambina che ha un cromosoma in più, cioè con la sindrome di Down, io dico che il generale Vannacci per le sue frasi sui bambini con disabilità si deve vergognare. Perché va tutto bene. Ma con le persone con disabilità non ci si può permettere di dire le frasi superficiali che Vannacci ha detto. Io ho firmato la legge sul dopo di noi, ho firmato la legge sull'autismo, ho firmato la legge sul terzo settore. Sono il padrino di una bambina che ha semplicemente un cromosoma in più. Penso al dolore di tante famiglie che in questo momento da casa sentono Vannacci dire persone con disabilità, anzi disabili come li chiama lui, essi in classi speciali. Vannacci, non ci hai capito niente delle persone con disabilità. Vergogna di studio e poi se ne ripari. Clippina su Giuseppe Conte. Non le voglio far mancare nulla. Oggi proprio ma... Proprio la voglio servire a primo, secondo, terzo, d'essere, eccetera. Prego. Conte. Oioi. ...demonizzato da questo governo, da queste forze di maggioranza. Qui stiamo parlando di una legge generale ed astratta che in tutta Europa noi l'abbiamo introdotta per ultimi in Italia. Andava fatto prima. Vogliamo andare in Europa visto che c'erano tutti i paesi europei allora stabiliamo in Europa questo criterio del reddito europeo di dignità, di cittadinanza visto che abbiamo dei governanti dal mio punto di vista ottusi allora lavoriamo e facciamo l'Italia al pari di tutti gli altri paesi europei una misura europea universale. Chiarissimo. Che dice Renzi? La misura c'era si chiamava reddito di inclusione. Rey. Solo che cosa ha fatto Conte? L'ha data anche a quelli che non avevano bisogno della misura e l'ha fatta soltanto come voto di scambio elettorale. Tant'è che quando lui va in alcuni comuni del mezzogiorno lo applaudono gli vogliono bene gli dicono papà do reddito. Perché? Perché a Conte funziona il meccanismo di dire ragazzi vi do i soldi voi mi date il consenso. è successo sul reddito di cittadinanza è successo sul super bonus ci sono tante famiglie rimaste fregate lui dice di fare Robin Hood ma è lo sceriffo di Nottingham perché lui ha rubato i soldi ai poveri per darli a chi non ne aveva bisogno col 110% o perlomeno per fare un meccanismo che ha permesso a tanti truffaldini di fregare le famiglie normali e tante famiglie normali sono rimaste impiccate. Allora Giuseppe Conte per me è uno che come dire si è alleato con Salvini poi ha cambiato posizione è andato con la sinistra era sovranista ora è di e lui va dove lo porta al vento però da quando ha detto porteremo il reddito in tutte le regioni che vinciamo le ha perse tutte quindi porta sfiga come minimo ecco questo non deve fare io non glielo direi ora perde anche Piemonte no giusto così ma un fassino col profumo dice poi l'ha fatto anche un'altra volta guardi la vicenda mettiamola così io non faccio processi sui giornali no perché ma neanche io però è strano se davvero le cose stanno così come vengono raccontate cioè che in più di una circostanza diciamo c'è stata quella vicenda lì credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene perché sono molto preoccupato per lui non è il Piero Fassino che riconoscevamo io spero che non sia vero però se le cose stanno così mi viene da dire chi gli vuole bene se le cose stanno così chi gli vuole bene lo aiuti perché sono cose evidentemente segno di una malattia altrimenti non me la spiego perché tutto può succedere non è il Piero Fassino che conoscevamo noi spero che siano tutte finzioni ma se fosse vero oh ragazzi abbiamo conosciuto come una persona preparata discutibile ma insomma molto preparata ognuno ha le sue idee ma se uno fa vero per carità va bene grazie noi si va a fare la lista per gli Stati Uniti d'Europa vediamo chi ci segue perché almeno gli altri facciano quel che vogliono grazie arrivederci a tutti arrivederci 50 week a bene allo No.